Roncaglia si sta risollevando ma le ferite sono ancora aperte, soprattutto quelle dal punto di vista morale e psicologico. Qui c'è ancora tantissimo da fare, ci vorranno settimane, forse mesi perché la situazione ritorni alla normalità. Ci troviamo all'interno della falinemeria Bosi, qui gli operai sono al lavoro per ripulire, ma come vedete nel cortile ci sono ancora vere e proprie montagne di fango. Il suo capannone è stato travolto dalla furia dell'acqua, dal fango, detriti, i danni sono ingentissimi. Sì, sono molto ingenti, purtroppo non siamo ancora in grado di quantificarli, perché oltre al materiale purtroppo anche la parte elettrica è quella che ha subito maggior danno. Siete ancora senza luce? Purtroppo sì, perché il danno alla cabina principale è molto peggiore di quello che temevamo. Non era mai successa una cosa del genere? Mai, mai, mai. Da quanti anni voi siete qui? Quasi 60 anni. Volevo ringraziare il sindaco, i volontari della protezione civile che per otto giorni hanno lavorato per poter pulire tutto e naturalmente anche i vigili del fuoco. Non solo le aziende ma anche i cittadini privati hanno subito gravi danni, soprattutto chi ha le abitazioni a piano terra. Visto quello che era successo tre ore prima a Farini e a Bettola, se ci avessero avvisato avremmo potuto certamente organizzare qualcosa per impedire che l'acqua entrasse in casa. E avremmo limitato di molto i danni. Abbiamo dovuto togliere tutti i piedi originali perché essendosi bagnato il ripiano alla base si sta rompendo e sprofonda. Vedo che mancano anche gli elettrodomestici. E purtroppo sono tutti distrutti. Qui avete dovuto mettere tutti gli scatoloni? Abbiamo ammassato tutte le cose di qua. La prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo sollevato la sala perché è in noce e ha un certo valore. Anche qui il muro sta cominciando a rompersi. Lei era in casa? Niente sì, ero in casa, mia figlia era a letto. La mattina ho guardato fuori dalla strada, ho visto l'acqua passare, dopo i tronchi e tutta l'acqua. Siamo dovuti salire sul portichetto dalle finestre in alto, ho preso molto paura. Io ero fuori, ero proprio fuori, non connettevo più, piangevo perché credevo proprio che era arrivata la mia fine. Qui le storie da raccontare sono davvero tante, come quella del signor Stefano per esempio, che si trovava in quel punto e stava caricando il suo camioncino. Quando è arrivata l'ondata d'acqua ha distrutto completamente il muro e ha invaso il cortile e il garage arrivando a due metri di altezza. Lui e la moglie si sono salvati per miracolo, ma la signora purtroppo è ricoverata in ospedale con una grave ferita. L'acqua qui ha invaso tutto, fino al soffitto? Sì, fino al soffitto, alle finestre usciva come se fosse un fiume. Voi vi siete salvati appena in tempo? Sì, appena appena. Siete scappati in casa? Siete scappati di sopra, sì, solo che mia moglie non ci ha raggiunto in tempo. Quindi si è tagliata un tendine e adesso rischia un'infezione molto grave. C'è una bella infezione, l'hanno operato due volte per attaccare i tendini e aveva la caviglia maciullata. Sì, questi mobili tutti accatastati sono di questo signore e lei ha dovuto buttare tutto? Ha buttato tutto quello che c'è in casa. Questo è quello che è rimasto in casa sua? Sì, quello che hanno aiutato i vicini. Lei non ha più letto, deve dormire per terra? Sì, anche la macchina, quella che era parcheggiata di là, adesso sono piedi senza macchina, senza mia. Io ho un locale, che adesso vi faccio vedere, dove faccio recupero, deposito attrezzi, che mi ha completamente distrutto una macchina da falegname e attrezzature di una certa identità. Grazie.